PORCA PUTTANA Perché? Sai un altro modo per farsi rispettare? E a seccare un PS ci guadagni il rispetto? Il rispetto? Il rispetto non lo so, almeno così staremo alla pari Se era solo per una pistola, non avevi che da dire Con questo è diverso Che? Ti senti in missione? Cazzo ti prende, parla di missione, sono io quello che l'ha trovata e basta Per cui da aggiuntarmi Sai ad Abdel quanto gli può servire? Ad Abdel non lo so, ma a noi di sicuro E poi che cazzo vuoi? Che caga sotto Ti vai a ficcare nella merda, Vinci Senti, io faccio quello che faccio, farò stesso pure tu Non voglio rogne Fottitene, e poi saranno cazzi miei, per cui alia Vabbè certo, adesso che c'è questa sei davvero il boss della zona